Musica Let's go bitches Indovinate cosa sto per fare Non dovete indovinarlo, avete già visto il titolo quindi già lo sapete Beh, nella mente di Power Iniziamo subito con una partita che ho fatto ieri in streaming E che magari alcuni di voi hanno già visto Ma voglio spiegarvi alcune cose Quindi bitches, let's go Partiamo, allora iniziamo qui La postazione è quella di P2, mancano 20 secondi Quindi bisognerebbe ruotare Come vedete muoiono praticamente due persone all'interno della heal E decido di entrare Per cercare di prendere quelli che sono altri 10 secondi Che potrebbero aiutarci durante la ruotazione Verso P3 che è quella più difficile Non avendo la ruotazione, avere un vantaggio di punti Da P2 a P3 che sarebbe postazione 2 a postazione 3 È molto meglio Comunque ora vi faccio vedere come rompere Diciamo il setup Di P3 In questo caso mi stanno sparando Stiamo andando tutti dal centro come vedete Allora, vediamo Chris Codd si trova qui al centro verso Zigzag Che ora traderà il nemico che mi ha sparato The Real sta andando in Train Track E Sowers sta sparando a quello che si trova in Zigzag Allora, scusate che non so più parlare italiano Ritorniamo sulla mia visuale Guardate, lo ammazzano Bene, questa cosa è molto importante Guardate come è disposta la gente Uno sta controllando un RC Uno si trova sempre dietro a Tin Come sempre, tutti si trovano ovviamente sempre dietro a Tin È una cosa tipo ovvia Tutti sono non dietro a Tin Ragazzi scusate, non so parlare italiano più Comunque non so come la chiamate in italiano Questa cosa che sta guardando lui Tutti si trovano in questa zona verde Chiamiamola così Poi c'è sempre una persona Che si trova magari vicino alla Hill Come lui che è rinato dopo che è stato ucciso E via Comunque guardate Io così controllo dove sono i nemici Decido quindi di andare a challenge la R Lo elimino E in questo caso cosa faccio? Bene, decido di pushare La cosa importante come vedete Anche se N-Stars si trova qui In questo punto Guardate dove sono risponati Gli altri avversari Allora Praticamente abbiamo fatto Una kill Ma guardate gli avversari dove sono rinati In questo caso Guardate Kero dove si trova E guardate Mystic Sono sponati dietro rosso Perché questa cosa? Perché quando La map Nella zona della mappa Scusate, fatemi uscire da qui Quando si controlla Si riesce diciamo ad arrivare in questa zona Da qua e guardare qui Gli avversari hanno due spawn Uno può essere qui verso la palla O verso la macchina blu Ma in questo caso Come avete visto C'è The Real Eccolo qua Il magico The Real Che sta contendendo lo spawn Lottando con questo avversario Anche se lui morirà in questo scontro Le kill ormai sono state già fatte Perché basta arrivare comunque In questa zona O comunque qui Quindi in grado di vedere lo spawn Eppure vi basterà anche essere qui In questo bruttissimo corner E potrete comunque contendere lo spawn Gli avversari Responeranno qua dietro Proprio qui Dove state vedendo Ora Ritorniamo sulla mia visuale E continuiamo a vedere Quello che faccio Qui continuo Uccido questo tizio Faccio un po' di brave fire Ovviamente per paura Che ci sia qualcuno in team Ricarico E mi metto a guardare team Assieme al mio compagno Della destra Me ne sbatto completamente Perché tanto so Che anche se arriveranno da destra Noi spawneremo a sinistra Vicino team O barn Non so come lo chiamate Questo qua mi prova a challenge Io scappo Ciao Lo ammazzano Mi trade Un ottimo trade Questo devo dire 20 secondi Devo ancora girare Io mi continuo a guedere Barney insieme al mio compagno Perché è importante Questo Perché se guardate Il lato sinistro Anche se gli avversari Pusciano destra Voi rinascerete Dietro a quei due silos Cioè intendo questi due Scusatemi Fatemi uscire Dietro a questi due Il numero 3 E il numero Perché non mi si alza Va bene Si è buggatissimo Si è buggato In una maniera disumana Questa cosa Perché si bugga Va bene Non fa niente Si bugga Il cinema Comunque Continuiamo a vedere Andiamo avanti Un panti Un panti Un panti Un panti Un panti Qua sta utilizzando La mia RC Cosa devo fare Allora Guardate bene La situazione Abbiamo fatto 3 kill In questo caso 3 kill contemporaneamente E qui è appena morto Ritzking Poi vediamo Kero è morto Qua vicino Mystic L'unico che sta contendendo E The Real Sta flencando Secondo voi Dove risponeranno i nemici? Ve lo dico subito io Guardate dove sto per guardare Guardate Cosa faccio? Non so se avete visto Andiamo avanti Velocemente Ok Pram Arato Vedete come mi sono spostato Subito Allora Perché ho fatto questa cosa? Perché Una volta Fatte le kill Davanti a me Mi sono girato Vedete? Guardate come scappo Mi giro E guardo Bianco Perché faccio questa cosa? Perché gli avversari Guardate dove sono rinati Ora vi faccio vedere Lui è morto Tatatatatatatatatatata Andiamo avanti Un po' Invelocemente Guardate Guardate ora dove rinascono Rinascono In teen Quella cosa che vi dicevo Guardate tutti stanno rinascendo in team, 2 persone, 3 persone sono rinascendo in team, 4 persone e io cosa faccio? Mi sono posizionato in modo da catoffarli, cosa vuol dire in modo da catoffarli? Io ho fatto ora una sola kill, non ho bisogno di fare una seconda, gli avversari mi stanno cercando, gli devo far perdere tempo perché ovviamente sanno che devono avere più paura di me che quelli dentro la hill perché io posso uccidere da dietro, posso ucciderli mentre saltano verso la hill ma allo stesso tempo devono anche aver paura di quelli nella hill perché se vengono a cercare me passando da qui sicuramente troveranno i miei compagni che gli spareranno, guardate infatti, vedete? Guardate come ci stanno mettendo tempo ad arrivare, guardate come sono lenti, guardatelo, cioè vedete come stanno tutti aspettando che succeda qualcosa e invece i miei compagni continuano a sponchillarli, vedete io sono rimasto qua, continuo ad aspettare, comunque non c'è niente da fare di... non devo fare niente di che, devo solamente aspettare qui che succeda qualcosa di magico diciamo, non è vero, devo solamente aspettare che arrivino gli avversari e ucciderli. Quindi vede un nemico andare, mi metto dietro l'head glitch, ora è il mio momento di posizionarmi dietro l'head glitch e via, 8 secondi, la rotazione inizia, cosa faccio? Bene, sicuramente me ne andrò in rosso ma ho anche le streak, ebbene cosa farò? Userò sicuramente le streak. Postazione centrale è una postazione molto difficile, magari prendere qualche punto qui può essere sicuramente utile. Quindi, guardate, abbiamo fatto uno split spawn perché qualcuno ha pushato, mi sa, train track, famdemire, se qualcuno ha pushato train track, ah no, non è pushato train track ma si trova in L, vabbè, comunque è molto simile come cosa. Io vedo un avversario, gli spacchiamo la faccia con un bel trade, io e Chris Codd, damn, tre morti. Cosa si fa qua? Vediamo subito con l'Hellstorm dove sono rinati, dove sono rinati secondo voi? Sono rinati vicino a palla sicuramente, vediamo subito. Vedete che ero rinato qui, e guardate pure i suoi compagni, anzi, torniamo un pochino indietro, va. No, sbagliato. Ok, guardate i compagni dove sono rinati. Chris Codd, vedete, ta ta ta, ora faranno le kill, andiamo un pochino avanti, scusate, fino a che non facciamo la tripla. Chris Codd rinasce vicino a me. Oh, qui c'è il trade, bello, bel trade. Chris Codd fa l'altro, bello, bel aim bro. Eccoci qui, guardate dove sono rinati tutti. Mystic, Kero, N-Starts, e Ritzking. Sono rinati tutti lontanissimi da noi. E cosa vuol dire questo? Che io posso utilizzare qui le mie streak per collezionare un bel po' di punti alla postazione centrale. Guardate, infatti. Allora, utilizzo quelle mie streak, una bellissima tripla, bo 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 bo, arati, sì, sì, sì. Vi abbiamo spaccato, vai, tiriamo pure un elicotterino, perché sono rinati in faccia a me. Choke enorme qua. Non un elicotterino, scusate, l'aereo di carta. Questo è stato un choke veramente enorme. Qua facciamo una kill. Ora ne arriva un altro. Ah, questa qui è una bella cosa. È una bella cosa molto intelligente che ho fatto. Perché guardate cosa faccio. Allora, vedete come siamo disposti in questo caso? In questa disposizione vuol dire che, ok, un nemico può essere rinato bianco perché non siamo stati abbastanza veloci. E come avete visto, infatti ha rinato ora che tiro l'aereo di carta. Però gli altri nemici dove possono essere rinati? Ovviamente quelli che stiamo uccidendo ora, perché Sowers e The Real hanno fatto le kill, come vedete. Fatemi mettere la visuale. Vedete Sowers dove si trova e The Real dove si trova? Ovviamente gli altri rinasceranno dietro rosso, come vedete. Sono questi due. Quindi io cosa urlo qua ai miei compagni? Urlo, fatemi pushare fuori, fatemi pushare fuori. Perché pushare fuori? Perché devo cercare di fare le kill il più velocemente possibile per quelli che sono rosso. In modo da flippare lo spawn. Facciamo le kill, The Real anche mi aiuta. E cosa faccio? Decido io di andare in rosso. Perché decido di andare in rosso? Perché, come vedete, loro continuano a spawnare dietro rosso. E quindi hanno uno spawn, diciamo, favorevole per il controllo di P2. Quindi cosa decido di fare? Tac! Salto subito dentro. Rosso. E cerco di fare le kill. Una volta che abbiamo fatto le kill, io sono salito dentro rosso. Gli avversari sono ovviamente rinati vicino alla palla di nuovo. Come avevamo detto prima, nella postazione centrale. Comunque, butch, siamo arrivati, diciamo, alla fine del video. Come vedete qua, io mi appresto a flencare. Stiamo facendo un bellissimo pinch, secondo me. Guardate Sowers e The Real dove si trovano. Chris è con loro. E io sono dietro di loro. Gli altri, ovviamente, responeranno proprio da un'altra parte. Infatti, respawnano in fences, che sono molto lontani. Possono arrivare sì da shop e contendere lo spawn corretto. Ma, ovviamente, un team quasi deve sbrigare perché abbiamo il controllo. Come vedete, stanno correndo. E quello che dobbiamo fare è solamente pushare out. Io spero vi sia piaciuto questo video, butch, spero vi siate divertiti a questo Power Personal Trainer. Qui in moi, ovviamente, userò le mie streak per riprendermi 40 secondi di deal che voglio. Quindi, un'altra tripla inbound. Io spero vi sia piaciuto, non scusare Power Personal Trainer, ma nella mente di Power. Era da un tantissimo tempo che non lo facevo e ora con il cinema posso farlo. Mi dispiace che non c'è un modo di mettere la minimappa più grande in modo da farvi vedere le cose meglio. Se ci riuscirò, ovviamente, lo metteremo. Io vi saluto, butch, ci becchiamo al prossimo video. Let's go! Let's go!